Il controllo avanzato della trazione prevede due modalità, delle quali quella automatica è la modalità predefinita. Il sistema identifica le superfici con scarsa aderenza e regola coppia di frenata e coppia motrice per migliorare l'adesione dei pneumatici. Ciascun pneumatico anteriore è controllato separatamente per una maggiore efficienza. Per i conducenti con maggiore esperienza, la modalità guidatore esperto, che è possibile attivare dallo schermo multifunzione, consente una maggiore trazione. In questa modalità, il correttore della coppia di frenata è attivo e il conducente mantiene il controllo della coppia motrice mediante il pedale dell'acceleratore. Oltre i 40 km orari, il sistema torna automaticamente alla modalità automatica e sul quadro della strumentazione viene visualizzato un messaggio informativo. Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti